Trasformare il carcere borbonico nel villaggio delle universiari di Avellino è questa la proposta del comitato tecnico che si è riunito mercoledì scorso al circolo della stampa. Una proposta che non avrà alcun problema nel diventare realtà, visto che del comitato fa parte proprio la provincia di Avellino, ente che gestisce il polo museale, che diventerà così il punto di ritrovo di atleti addetti ai lavori, giornalisti e turisti che arriveranno in città per la grande manifestazione che si terrà dal 3 al 14 luglio in tutta la regione Campania. Il carcere borbonico ospiterà convegni, incontri e sarà possibile acquistare prodotti tipici e dell'artigianato ed anche conoscere meglio la nostra provincia attraverso la produzione di film e documentari. Durante l'ultimo tavolo del comitato che si è riunito appunto al circolo della stampa sono emerse anche altre proposte come quella di pubblicizzare l'evento delle universiari con una campagna informativa nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado. L'obiettivo è quello di coinvolgere gli studenti non solo come spettatori delle manifestazioni sportive. Tra Campoconi e Stadio Partenio Lombardi ci saranno le gare di tiro con l'arco e al Pala del Mauro le partite del torneo di basket maschile e femminile, ma anche di renderli protagonisti di una serie di iniziative correlate alle quali però si sta ancora lavorando. Il nodo più importante da sciogliere infatti riguarda i fondi. Il Comitato Tecnico per le Universiari della città di Avellino per ora si sta muovendo senza avere a disposizione nessun tipo di finanziamento. Per questo al prossimo incontro, fissato con ogni probabilità prima del 1 maggio, ci sarà anche Pino Bruno, presidente di Confindustria, ente chiamato insieme alla Camera di Commercio a trovare risorse economiche che possano trasformare le tante idee del Comitato in realtà.